bike for dream progetto sportivo per permettere a tutti gli appassionati ma soprattutto ai giovani di vivere la loro passione per la bicicletta segnando delle borse di studio mille euro per ogni bici affittata per un lungo periodo oggi però diventa un team per partecipare al giro d'italia giro d'italia elettrico la tappa è da erba a como circa 100 chilometri due salite impegnative abbiamo appena effettuato le verifiche tecniche display sono stati coperti perché verranno assegnati dei premi per la regolarità e poi ci sarà anche la volata a como insieme al giro d'italia mancano pochi minuti abbiamo appena finito le verifiche tecniche abbiamo già preso le misure settato le biciclette ci vediamo tra poco si parte ciao a Cambio batteria siamo alla vandana del ghisallo arriviamo sulla colma di sormano ai 51 chilometri lì c'è l'altra prova esatto poi scendiamo tutta discesa facciamo il civiglio tutti insieme poi da qua io mi stacco e vado giù con i capitani tutto chiaro no 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 Grazie a tutti Da Maurizio, Veronica il capitano e da Andrea il mio compagno di squadra È tutto da questo Giro d'Italia Veronica ha fatto la tirata Diciamo è andata abbastanza bene Noi dovremmo essere secondi o terzi Ma non era importante l'arrivo, era divertirsi Ciao a tutti, alla prossima Grazie, bike for dream e Polini Ciao